Intolleranza Zero è il nuovo negozio specializzato in prodotti specifici per le intolleranze. Da noi alimenti senza lattosio, senza lieviti e senza uova. È una vasta scelta per chi soffre di diabete e celiachia, con ritiro dei buoni spesa per celiaci. Inoltre siamo forniti di alimenti per vegani e prodotti erboristici e ipoallergenici. Intolleranza Zero, finalmente il negozio che si prende cura di te. Sassari via Sardegna.